Oggi andremo long sull'SP500 a provare a fare dei rimbalzi molto forti e cercherò di sfruttare un po' anche l'effetto del CPI che viene pubblicato al 1.30 perché eventualmente ci dovesse essere uno spike al ribasso e molto probabile che il mercato venga di nuovo comprato quindi l'ingresso l'ho messo un pelo più alto perché deve rompere una zona specifica che è 3920 da qui mi aspetta almeno 30 punti di rimbalzo veloci se viene spinto bene quindi stop loss 3880 e target 3960 operazione 1 a 1 ha fatto appositamente per cercare di sfruttare il rimbalzo che può arrivare con il dato dell'inflazione ovviamente il livello è piuttosto altino quindi deve rompere i massimi della giornata quindi l'operazione se deve entrare deve entrare a questi livelli perché altrimenti si rischia poi di entrare su livelli troppo alti e poi il mercato gira e non si riesce più a ottenere un profit nei tempi che abbiamo fino alle 17.30 e non si riesce più a ottenere un livelli troppo alti e poi non si riesce più a ottenere un livello